Ciao a tutti! No, non sono impazzito, ne ho cambiato squadra e tra l'altro sabato inizia il Tour de France, l'1 luglio e quindi no. Ma volevo attirare un po' la vostra attenzione su questa maglietta ideata da Sporful per uno dei viaggi in bicicletta in Ecuador del nostro mitico giovanotti nazionale, musicista ma che ama tantissimo il ciclismo. Ecco, dopo, grazie anche alla collaborazione con Baldoni Bike Shop e Paolo Kessisoglu, si è deciso di devolvere parte del ricavato all'associazione C'è da fare di Paolo Kessisoglus. A me, sinceramente, tutto quanto piace tantissimo, ovviamente dalla parte benefica ma anche la maglietta. Sono molto felice, oggi mi sento molto un just rider come giovanotti, fatelo anche voi raga! 2 3 3 Fin B Grazie a tutti.